Buongiorno e ben ritrovati. Oggi andiamo a risolvere questo esercizio sulla carica e scarica del condensatore. Abbiamo il seguente circuito in cui ci sono due generatori di tensione, resistenze e un selettore che va in posizione 1 per 350 millisecondi, in posizione 2 per 250 millisecondi e in posizione 3 per 50 millisecondi. Per vedere che cosa succede al nostro condensatore dobbiamo andare a vedere nelle varie parti le costante di tempo e quindi andiamo per prima cosa a guardare la posizione 1. Allora, in posizione 1 del selettore il condensatore si carica tramite R1 più R4 più R3 che risultano in serie così e quindi la costante di tempo Tau C di carica sarà R1 più R4 più R3 chiusa per C. Andiamo a sostituire quindi 1,5 più R4 è 500, R3 è 200 quindi non evitare problemi, facciamo tutto in home per 30 per 10 alla meno 6 Ok, qua mi viene 66 millisecondi e da questo il valore 5 Tau che è il valore dopo il quale si suppone completamente carico il condensatore quindi raggiunge il suo 99% e quindi completa la sua carica 5 Tau C sono 66 per 5, 330 millisecondi dopodiché posizione 2 e quindi essendo questo valore più piccolo di quanto sta in posizione 1 vedremo che il condensatore si carica completamente dopodiché in posizione 2 si carica tendendo al valore del generatore quindi 10 volt posizione 2 è presente un altro generatore per capire se si carica ulteriormente o si scarica andiamo a vedere il valore del generatore il condensatore 25 più grande di 10 quindi partirà una carica da 10 si caricherà di nuovo versi 25 volt tramite cosa? tramite la resistenza R2 ed R3 e quindi il condensatore si carica ulteriormente tramite R2 e R3 e quindi a questo punto avremo una Tau C che a questo punto chiamiamo Tau C1 e Tau C2 quindi Tau C2 di qua mettiamo 1 sarà uguale R2 più R3 chiusa per C R2 più R3 sono 1400 per 30 per 10 alla meno 6 e viene allora 1400 per 30 viene 42.000 quindi 42 millisecondi 5 5 volte Tau C2 quindi 5 volte il valore Tau C2 sarà 42 per 5 210 millisecondi anche questo valore è più piccolo di quanto mantiene la posizione quindi si caricherà completamente a 25 volt dopo di che abbiamo la posizione 3 che viene mantenuta per 50 millisecondi in posizione 3 il condensatore trova solo una resistenza e quindi comincia a scaricarsi quindi 3 il condensatore si scarica tramite la sola R3 quindi abbiamo la Tau di scarica Tau S sarà R3 per C e quindi 200 per 30 per 10 alla meno 6 quindi quindi sarà 200 per 30 che fa 6.000 quindi 6 millisecondi 5 volte il valore Tau S sarà 30 millisecondi e anche qua la posizione è mantenuta per un tempo superiore quindi riuscirà a scaricarsi completamente andiamo a vedere il grafico quindi quindi tensione Wc nel tempo allora qui abbiamo il tempo in millisecondi qua la tensione Wc in volt quindi avremo allora 10, 20, 10 possiamo farlo qua e 25 possiamo fare qua quindi qui avremo quindi qui avremo 5, 10 ora vado a dividere per i tempi ecco qua sono andata a disegnare il grafico quindi abbiamo partenza da scarico la posizione 1 per 350 millisecondi in cui abbiamo una carica che va a 10 volt quindi arriva a 330 appena carica e mantiene poi qua poi in posizione 2 parte la carica ulteriore a 25 che arriva appunto da 350 dopo 210 quindi a 560 millisecondi viene mantenuta fino a 600 tempo T2 poi parte la posizione T3 in cui si ha una scarica repentina da 25 a 0 quindi avremo in effetti la costante tempo di scarica molto più rapida quindi viene giù così arriva a 630 alla scarica e poi fino a 650 qua poi se continua se la posizione 3 viene mantenuta bene con questo l'esercizio è concluso spero vi sia stato d'aiuto se sono stata chiara se vi è stato utile mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale ci vediamo domani per un altro video per un altro video